Sicuramente i consigli che riceverò renderanno molto significativa la mia vita e aver visto proprio i cambiamenti di molte persone che hanno ascoltato questi consigli e aver cambiato la loro vita in positivo, questo veramente mi rende davvero contenta di essere qua oltre alla bella compagnia che godrò questi tre giorni. È un invenimento molto speciale, importante, perché possiamo trarre incoraggiamento dai consigli pratici che dà poi la Bibbia. Consigli che personalmente ad esempio mi hanno aiutato a diventare una persona migliore all'interno della famiglia, nel campo lavorativo, insomma a livello sociale e poi insomma potremmo rivedere tantissimi amici che vengono da tante parti qui. E' entusiasmo, voglia di incontrarsi e di trasmettere un messaggio positivo. Oltre 7.000 persone sono arrivate da Puglia, Basilicata, Molise, parte dell'Abruzzo e Calabria in Fiera dell'Evante a Bari per partecipare al primo dei tre congressi di tre giorni dei testimoni di Geova in programma dal 19 luglio e per tre fine settimana consecutivi nel capoluogo pugliese. Annunciamo la buona notizia, il tema scelto quest'anno. Si prevede che l'evento, totalmente gratuito e dal vivo, aperto al pubblico e che promette di dare solo buone notizie, attirerà in città più di 22.000 persone, favorendo anche le attività commerciali del posto come negozi, hotel e ristoranti. Il primo giorno si è aperto con un momento clou, la prima parte di un video racconto. La buona notizia secondo Gesù. Con questo video racconto saranno esaminati alcuni episodi dei Vangeli e ci sarà la possibilità di riflettere su alcuni avvenimenti che sono accaduti a questo proposito e il perché questi avvenimenti sono utili per noi oggi, quindi migliaia di anni dopo di quando effettivamente avvennero. Sarà un congresso, dicevamo, incoraggiante perché uno dei punti principali che sarà messo in risalto durante tutto il congresso e perché e come milioni di persone in ogni parte del mondo continuano a mantenere una veduta positiva delle cose nonostante il fatto che le condizioni del mondo peggiorino. Ogni sabato fino al 3 agosto ci sarà l'attesissimo momento del battesimo. Soltanto domani ci sarà il battesimo di circa 65 battezzandi ma in totale appunto nei tre sabati consecutivi qui alla Fiera delle Vante di Bari ci saranno all'incirca 150 battezzandi, quindi 150 noi testimoni. Per noi è una gioia non soltanto sul carattere spirituale del programma che sarà svolto ma anche perché è una grande e piacevole occasione per stare in compagnia e anche rivederci con i nostri cari amici con la quale condividiamo, con questo credo religioso nella quale crediamo e siamo certi che tutti i rememoratori spirituali che verranno trattati anche quest'oggi ci sono di beneficio sia nella nostra vita di oggigiorno e soprattutto nel prossimo futuro.